io ho facendo scattato il nostro allora passando subito a prima che è da mia parte a massimo quindi mi scappano da un attimo la scheda per esempio di carattere tecnico così i bambini stessi ci guadagnano anche adesso se entrano loro i protagonisti e quindi è benso pulito. Eh sì, vediamo un po' di conflitti da fare. Allora voi avete in mano questa tuoletta che è spesa pulito e avete le matite colorate che vi sono tutte regalate oggi e avete una decina di minuti di tempo per fare un mostro di legno su che qui è la tua propensione. Quindi, buon lavoro! Bene, allora per 10 minuti siete voi protagonisti e spiegate la vostra creatività dentro la nuvoletta che vi è stata data per cui vi voglio vedere cosa è anche per voi. Pensa pulito e vi ricordo che i migliori saranno a voi esposti nel villaggio bruciato allo Stadio Tardini di Parma o dove postate su vostri social e sulle vendite. Buon lavoro! 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 Grazie a tutti.